L'editto di Erode e la calata dei magi. Sono queste le scene del Nuovo Testamento che saranno rappresentate a Mottola per la parte conclusiva il prossimo 5 gennaio della 22esima edizione del Presepe Vivente. Dopo l'inaugurazione, in viaggio per Bethlehem, svoltasi prima di Natale e che ha ricevuto uno straordinario successo di visitatori, si attende ora la seconda e ultima giornata della rievocazione storico-religiosa. Appuntamento dalle 18 alle 22 della Vigilia dell'Epifania per un evento a ingresso libero che si terrà in una location quanto mai scenografica e suggestiva, le Grotte della Madonna delle Sette Lampade ai piedi della collina Mottolese. Il Presepe Vivente di Mottola, uno dei più affascinanti della Puglia, è organizzato dal gruppo folkloristico Mottola Fnod o DV, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura dell'Amministrazione Comunale e del Centro Servizi per il Volontariato di Taranto. Un evento per cui, sotto la direzione artistica di Pietro Palagiano, sono impegnati circa 100 figuranti che in abiti riproducenti fedelmente quelli dell'epoca rappresentano i principali episodi della natività, nonché scene e mestieri che tanto affascinano grandi e piccini. È ritornato qui dopo tre anni causa Covid e c'è stato tantissimo lavoro per il rifacimento dello scenario, causa l'abbandono di queste magnifiche grotte. E per cui, oltre a questo, si è aggiunto anche la mancanza di volontari che hanno aiutato per il rifacimento dello scenario. Io invito, soprattutto, ancora una volta, l'ho già detto e lo ripeto, gli enti locali ad essere più vicini a questa iniziativa che, come ho già detto prima, quest'anno raggiunge la ventiduesima edizione. A margine della rievocazione è anche la possibilità di degustare prodotti tipici nel pieno rispetto del periodo storico e del contesto religioso.